lettera ai Colossesi, lettera ai Colossesi questa sera, capitolo 2, leggiamo da versetto 6 al versetto 7, Colossesi, capitolo 2, versetti 6 e 7, postolo Paolo come sapete l'autore di questa lettera, versetto 6 scrive come dunque avete ricevuto Cristo, Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Due versetti questa sera importanti, fondamentali per la nostra vita, sapete Paolo scrive questa lettera da una prigione, Luca in Atti 28 descrive la prigionia di Paolo, questa lettera che scrive ai Colossesi e ai credenti di questa città Colossa è iniziato ringraziando Dio per la loro fede, Paolo è riconoscente, gioioso per la fede e l'amore che hanno i Colossesi, Paolo è consapevole che è Dio che ha operato ciò nella loro vita. Non solo Paolo ha ringraziato Dio per i Colossesi ma ha anche presentato dal versetto 9 al versetto 14 la sua intercessione per i Colossesi. Il desiderio che ci sia questa conoscenza, questa saggezza, intelligenza spirituale per camminare in modo fedele, in modo sottomesso al Signore. Dopodiché abbiamo visto dal versetto 14, 15 in poi abbiamo visto che Paolo ha ricordato il primato di Cristo, ha ricordato che Cristo ha la preeminenza, Cristo è il capo della Chiesa, ha ricordato in che modo è possibile la salvezza in Cristo. È particolare che Paolo scrivendo dei credenti ricorda queste cose, ricorda queste verità. Cristo ha il primato, Cristo è il Salvatore e poi dal versetto 24 in poi Paolo ha presentato quella che è l'essenza, l'oggetto e lo scopo del suo ministero. Lui è un servitore della Chiesa, chiamato a proclamare la parola di Dio, è uno scopo, la crescita dei credenti. Pensate, lui afferma che lotta si affatica finché ogni uomo sia presentato davanti a Cristo, perfetto, ovvero completo. Lui serve la Chiesa affinché ci sia maturità, crescita spirituale. Non solo abbiamo visto dal versetto 1 del capitolo 2 al 3 e poi versetto 4 e 5 la scorsa volta l'amore di Paolo per la Chiesa. Paolo serve la Chiesa, Paolo ama la Chiesa e combatte per la Chiesa. Paolo combatte lotta per la Chiesa e abbiamo visto uno scopo che è questo affinché siano incoraggiati i loro cuori. Questo combattimento di Paolo che si tratta abbiamo visto della sua preghiera, la sua intercessione. Questa lotta, questa grande lotta si riferisce alla sua preghiera per i Colossesi. Pensate, Paolo è in prigione, scrive ai Colossesi e dedica il suo tempo pregando, intercedendo per la crescita dei credenti affinché siano fortificati, affinché, dice, abbiano saggezza, intelligenza spirituale, profonda conoscenza di Cristo. Paolo prega affinché ci sia discernimento nella vita dei Colossesi. Ora ricordiamo che Paolo scrive ai Colossesi in questo contesto per esortarli alla fedeltà, alla luce dei falsi insegnanti. Quindi capiamo quanto era importante per Paolo lottare, combattere. Alla luce del falso insegnamento lui mostra questo suo amore come combattendo in preghiera per loro affinché ci sia incoraggiamento loro, ma anche perché è preoccupato. Desidera che siano fortificati, che siano saggi nel loro cammino attraverso questa conoscenza di Cristo, ma mette a luce la sua preoccupazione. Perché lottare per i Colossesi? Versetto 4. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Paolo prega, lotta in preghiera perché sa qual è la pericolosità dei falsi insegnamenti. Di questo parlerà dal versetto 8 in poi. Filosofie, legalismo, ascetismo, misticismo e Paolo prega, lotta in preghiera. Pensate quanto Paolo ama le chiese. Serve la chiesa, dandosi la preghiera. E abbiamo visto che lotta finché ci sia saggezza, la profonda conoscenza di Cristo. Sapete, qui parla dei credenti che conoscevano Cristo. Per quale ragione parla di questa piena conoscenza del mistero di Dio, di Cristo? Perché prega affinché ci sia questa ricchezza per quanto riguarda l'intelligenza spirituale? Perché di fronte al falso insegnamento. Per proteggerci dal falso insegnamento è fondamentale la saggezza, la conoscenza. Quindi Paolo mostra il suo amore come combattendo per loro e preoccupato per loro, e tutto ciò alla luce dei falsi insegnamenti. Ora, in questi due versetti che ho letto, dal versetto 6-7, qui comprendiamo che Paolo non solo combatte perché ci sia saggezza, ma qui vedremo che c'è un aspetto fondamentale, essenziale per i credenti. Non solo saggezza, non solo intelligenza spirituale, perché in Cristo c'è la sapienza, la conoscenza, e quindi è fondamentale crescere nella conoscenza di Cristo, ma Paolo ora esorta a camminare in Cristo. Prega per saggezza, prega per il loro conforto. Lui è al servizio della Chiesa, ma ora esorta ad un cammino in Cristo. Paolo esorta ad un cammino in Cristo. Questa sera vedremo quindi l'essenzialità di camminare in Cristo. Qui sta parlando a dei credenti che conoscono Cristo, ma evidenzierà che è essenziale camminare in Cristo. E sarà molto importante capire perché è essenziale, perché è importante ricordare che dobbiamo camminare in Cristo. Beh, la risposta è molto semplice in questo contesto. Versetto 8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. come difenderci dal falso insegnamento, da qualsiasi insegnamento superficiale errato, con un cammino in Cristo. Di questo Paolo parlerà in questi due versetti. Quindi certo è importante la saggezza e l'intelligenza, ma quella saggezza, quell'intelligenza è funzionale perché è il mezzo affinché ci sia un cammino in Cristo. Se ricordate di questo, Paolo ha parlato al versetto 9 del capitolo 1, quando parlando della sua preghiera disse, perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi, di domandare che siate ricomi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa? Quando Paolo parla di intelligenza e sapienza non sta parlando dell'intelligenza di questo mondo, fratelli. Non sta parlando di intellettualismo. Quello di cui parleremo questa sera in questa lettera riguarda la saggezza spirituale necessaria per un cammino in Cristo. Paolo prega per questo, intercede per questo, perché ci sia saggezza e intelligenza, ma ora al versetto 6 e 7 esorterà un cammino in Cristo. Necessario, fondamentale, essenziale per affrontare filosofie, legalismo, misticismo. Fratelli e sorelle, comprenderemo che se non c'è un cammino con Cristo, noi siamo in grado di crearci delle regole, di imporre delle regole e di anche diventare mistici nel nostro modo di pensare. Quindi Paolo ci istruisce ora nel camminare in Cristo, ci esorterà a ciò, perché questo è il modo per proteggerci anche da qualsiasi falso ragionamento che c'è nel nostro cuore. Secondo me dovrei fare questo, questa è la mia idea. Ma se andiamo alla parola di Dio, se c'è saggezza in Cristo, la piena conoscenza di Cristo e se c'è un cammino coerente con quella saggezza, beh, lì avremo la saggezza per dire quel pensiero, un pensiero peccaminoso, carnale. Quindi Paolo ora esorta un cammino in Cristo, essenziale. Due aspetti, vedremo questa sera, due aspetti che evidenziano l'essenzialità di camminare in Cristo. Il primo è questo, versetto 6. La conoscenza salvifica di Cristo implica un cammino in Cristo. Sarà importante. La conoscenza salvifica di Cristo implica un cammino in Cristo. Secondo punto sarà questo, un cammino in Cristo implica una crescita spirituale in Cristo. Il primo aspetto, una conoscenza salvifica di Cristo implica un cammino in Cristo, e poi vedremo che un cammino in Cristo implica una crescita spirituale in Cristo. Prima di iniziare però vorrei soffermarmi sul termine camminare. Cosa significa camminare? Cosa vuol dire camminare? Beh, questo è un termine che viene spesso usato nel Nuovo Testamento. Sapete, si riferisce all'atteggiamento, alla condotta, al comportamento, alla vita quotidiana. Per esempio, capitolo 4, versetto 5, ascoltate quello che dice Paolo quando scrive Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, ricuperando il tempo. Qui dice comportatevi, sapete il termine è camminate con saggezza. Tradotto giustamente comportatevi, anche se letteralmente camminate. Ma si riferisce al comportamento. Quindi quando Paolo parla di camminare, si riferisce all'atteggiamento, alla vita quotidiana, alle scelte. Capitolo 3, versetto 7, quando dice E così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Qui parla dell'atteggiamento carnale, del non credente, del passato. Versetto 10 del capitolo 1, anche qui, perché camminate in modo degno del Signore. Qui si parla di atteggiamento, comportamento, ma non solo. Efesini 4, per esempio. Efesini 4, 1. Alcuni versetti per chiarire che il termine camminare si riferisce al comportamento. Efesini 4, 1 dice Paolo Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Qui dice, vi esorto a camminare. Ma anche qui il termine è comportarsi. Comportamento, versetto 17. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Anche qui il termine è camminare. Quindi un termine che si riferisce a un cammino spirituale, alla condotta, al comportamento, all'atteggiamento. Romani 13, Romani 13, versetto 13, anche qui, dice Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie, ubriachezze, senza immoralità e distrutezza, senza contese e gelosie. Dice comportiamoci, che qui camminiamo onestamente. Ci sono tanti altri brani che mettono in evidenza che il termine camminare si riferisce proprio al comportamento, al comportamento dei credenti. Prima testano nei cesi 2, 12. Anche qui abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio. Abbiamo visto che il termine nella scrittura, nel Nuovo Testamento, nelle epistole, in particolar modo, si riferisce all'atteggiamento, al comportamento. Quindi Paolo esorterà a camminare in Cristo e quindi esorterà ad avere una condotta conforme a Cristo. Siamo abituati ad ascoltare alcuni termini e non comprendere in profondità il significato. Quando dirà di camminare in Cristo dirà di comportarci da cristiani, di comportarci in modo conforme a Cristo. Iniziamo con il primo aspetto quindi, versetto 6. La conoscenza salvifica di Cristo implica un cammino in Cristo. Paolo inizia dicendo Dunque, perciò alla luce di quanto ha detto in precedenza, alla luce del possibile inganno dei falsi insegnanti, alla luce della sua lotta, della sua preghiera affinché siano saggi e intelligenti, ora dice come avete ricevuto Cristo, Gesù il Signore, così camminate in Lui. Come avete ricevuto Cristo, Gesù il Signore, così camminate in Lui. Paolo sta scrivendo ai credenti, corossesi, i quali avevano ricevuto Cristo. Avevano conosciuto salvificamente Cristo, mediante il Vangelo, capitolo 1, ci ricordiamo che attraverso Eprafra avevano udito il Vangelo e conosciuto la grazia di Dio in verità. Grazie al Vangelo hanno udito Cristo, hanno ricevuto Cristo, sono giunti alla salvezza in Cristo, a conoscere il Signore. Di cui Paolo parla, capitolo 1, Cristo è il Signore, colui che ha la preeminenza. Ma ora giunge. Come avete ricevuto Cristo? Voi che siete salvati in Cristo, ora camminate in Cristo. La conoscenza di Cristo salvifica, implica, fratelli e sorelle, necessariamente un cammino in Cristo. Una vita conforme a Cristo. Non è una fase 2 quella, forse per il pastore, per l'anziano, o per il diacomo, o per qualche credente. No, qui dice come avete ricevuto Cristo? Se siete in Cristo salvati così, comportatevi in modo conforme a Cristo. Sapete, qui Paolo esorta con un imperativo e l'imperativo è il presente. Però perché dire ciò? Perché qui parla di un continuo cammino in Cristo. Parla di un continuo cammino, una continua condotta conforme a Cristo. Ora qui capiamo perché è importante pregare affinché ci sia saggezza e la conoscenza di Cristo. Perché è in Cristo che noi troviamo la saggezza ed è quella saggezza che ci mostra come comportarci da cristiani. Paolo lotta in preghiera affinché ci sia saggezza piena conoscenza di Cristo perché in lui tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Ma perché ciò? Perché la conoscenza di Cristo salvifica implica un cammino in Cristo, una condotta cristiana. Non una condotta conforme alla filosofia, alle ideologie, al soggettivismo, a ciò che dice il mio pastore quando mi dà delle regole. Ma una condotta conforme a ciò che è giusto, alla saggezza che troviamo nella parola di Dio. Paolo lotta in preghiera affinché ci sia saggezza, abbiamo visto anche il capitolo 1, perché ci sia un cammino degno del Signore. Fratelli, studiare la parola di Dio, insegnare ha uno scopo. Questa sera c'è uno scopo, ricevere saggezza, intelligenza spirituale per capire come vivere in modo degno del Signore. Per capire come avere una condotta, un atteggiamento che onora il Signore. Sapete, non c'è saggezza in noi, non c'è sapienza in noi. E non basta semplicemente dire ma sono salvato in Cristo, perché qui Paolo dice così come ha ricevuto Cristo, beh ora cammina in Cristo. In un cammino, una condotta possibile grazie alla conoscenza di Cristo, grazie alla saggezza, alla sapienza. E tutto ciò, questo cammino sarà il modo in cui noi possiamo difenderci dal falso insegnamento. Oh, fratelli, quale inganno pensare che basta essere salvati per avere un discernimento spirituale. Quante volte ho sentito, oh, un discernimento spirituale, capisco questo? Fratelli, quello si chiama misticismo. Il discernimento spirituale grazie alla conoscenza della parola di Dio. E solo quando c'è un cammino conforme a Cristo, riusciremo a discernere il falso insegnamento. Riusciremo a discernere l'errore. Purtroppo c'è molto misticismo, abbiamo visto anche in passato qualcuno affermare che questa predicazione o insegnare così è intellettualismo, ma noi siamo chiamati a essere guidati allo Spirito Santo, ma è l'Ospito Santo che ha rivelato la sua parola. L'Ospito Santo ci insegna a sottometterci alla saggezza che troviamo in Cristo perché così c'è una condotta cristiana. Se non c'è un cammino in Cristo, se non c'è una condotta conforme a Cristo, il credente sarà facile preda del falso insegnamento. Sarà facile preda del legalismo. Infatti il legalismo c'è quando non c'è un cammino in Cristo. Certo, quel legalismo potrebbe apparire quasi spirituale. Il versetto 20 del capitolo 2, ascoltate quello che dirà Paolo. Se siete morti con Cristo, agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, non fare questo, non fare l'altro, una lista lunga di cose da non fare? Tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che in essi di culto volontario, di umiltà, di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. L'ascetismo, non fare questo, non toccare questo. Legalismo, apparentemente, è austerità, è disciplina, ma non è un cammino in Cristo, perché non è conforme a ciò che la scrittura ci insegna, ma sono una serie di regole che imponiamo. Paolo lotta in preghiera finché ci sia saggezza e ora esorta i credenti, salvati in Cristo, a camminare in Cristo. Colui che conosce salvificamente Cristo vive la sua vita seguendo Cristo e di conseguenza la sua condotta cambierà. Sappiamo quali sono le nostre mancanze, conosciamo le nostre debolezze. Qui Paolo parla di questa conoscenza salvifica di Cristo che implica un cammino in Cristo. Colui che è salvato può fare ciò, può avere una condotta. Dobbiamo domandarci se non c'è una condotta conforme a Cristo e non abbiamo nemmeno la voglia di avere questa condotta. La domanda è, conosciamo Cristo? Qui dice, se dunque avete ricevuto Cristo, come dunque avete ricevuto Cristo, così camminate in Lui. Aver conosciuto Cristo salvificamente implica la volontà di camminare in Cristo. E sapete, diverse volte troviamo questa esortazione a camminare in Cristo, ad avere una condotta conforme alla parola di Cristo. Diverse volte, anche in Prima Testale Unicisi 2,12 abbiamo letto prima, e anche in Prima Giovanni, questa lettra che Giovanni scrive, parlando di quello che è la vita, la condotta del credente, ascoltate un solo versetto, Prima Giovanni 2,6, un solo versetto. Chi dice di rimanere in Lui, in Cristo, deve camminare come egli camminò. Chi dice di rimanere in Lui, quindi colui che conosce Cristo salvificamente, deve camminare, deve comportarsi come Cristo si comportò. Sappiamo che non ci sarà perfezione, ma ci sarà una condotta. E fratelli, questo è per proteggerci dal falso insegnamento, perché vedremo dalla prossima volta che parlerà di filosofia. Parlerà di legalismo, è l'unico modo per affrontare, è attraverso la saggezza che abbiamo in Cristo, è attraverso un atteggiamento conforme a Cristo. Quindi avere sapienza, conoscenza in Cristo, questa saggezza, è fondamentale per avere una condotta cristiana, una condotta conforme a Cristo. E Paolo esorta i Colossesi a camminare in Cristo, a vivere Cristo nella loro vita, e sapete, questa lettera, i Colossesi, ci mostrerà come camminare in Cristo. Paolo non solo esorta a camminare in Cristo, ma ci indica come camminare in Cristo. Capitolo 3, versetto 1, ascoltate quello che dirà, molto pratico. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cosa sta dicendo? Se sei in Cristo, salvato, ora aspira alle cose spirituali. Ecco un principio biblico fondamentale da applicare nella nostra vita. Ecco come camminare e avere un comportamento fedele. Non è semplicemente alzandoci la mattina e dicendo adesso voglio impegnarmi di più. No! E andando alla parola e desiderando che cosa? Di cercare le cose spirituali. Aspirare alle cose di lassù. Versetto 5, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia che è idolatria. E non dice pregate affinché Dio un giorno operi ed elimini. No! E non dice fate morire se dunque siete stati risuscitati in Cristo, con Cristo. Fai morire! Ecco la condotta conforme a Cristo. Ecco il cammino di cui parla Paolo. Quindi Paolo si esorta al cammino, ma poi vedremo nei dettagli a cosa corrisponde questo cammino. Anziché imporci delle regole, non toccare, non assaggiare, ci dirà, aspira alle cose di lassù. Desidera le cose spirituali, cerca priorità spirituali e poi metti a morte ciò che in te è terreno se sei risuscitato con Cristo. Se hai conosciuto Cristo salvificamente, di conseguenza ci dovrà essere un comportamento, un atteggiamento, un desiderio e Dio certamente opererà mediante il suo spirito. E' Lui che ci cambia, ma qui c'è una volontà nostra e soprattutto ricorda l'opera salvifica. Se sei salvato, se sei in Cristo, come avete ricevuto Cristo, così camminate in Lui. Qui capiamo che colui che è in Cristo potrà camminare in Cristo, perché Dio lo ha trasformato, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo non è il misticismo, fratelli e sorelle. Questa è la parola di Dio che ci dice chi siamo noi oggi. Come ho ricevuto Cristo, cammino in Lui. Fratelli, questa non è un'idea di un pastore, di una denominazione. Questa è la parola del Dio sovrano, santo e giusto, che ci ama a tal punto che ci dice ti ho salvato, ora vivi in modo conforme alla mia volontà e lì troverai la forza, la saggezza, il discernimento per contrastare il falso insegnamento. Fratelli, se non c'è la saggezza in Cristo, nella Chiesa entreranno cose carnali. È inevitabile. Inevitabile. E non ci sarà la lucidità, il discernimento, a meno che c'è un cammino in Cristo. Quindi è il nostro cammino in Cristo che ci porta a discernere, a capire. Ci sono cose che non sono spirituali. Ma anzi, ci sarà questo desiderio di aspirare alle cose di lassù. La prima cosa che abbiamo visto, quindi, la conoscenza salvifica di Cristo implica un cammino in Cristo, una condotta cristiana, un comportamento, una vita, un atteggiamento conforme alla volontà di Cristo. Questo non è il legalismo. Il legalismo è quando mettiamo delle regole per sentirci giusti. Questa è la parola di Dio che ci mostra che il credente vive da credente. E tutto ciò alla luce dei falsi insegnamenti. Secondo aspetto. Non solo la conoscenza salvifica di Cristo implica un cammino in Cristo, ma un cammino in Cristo implica una crescita spirituale in Cristo. Beh, colui che cammina in Cristo, vedremo a versetto 7, è colui che cresce in Cristo, e che ha un cambiamento in Cristo. C'è una trasformazione continua. In questo versetto 7 vedremo da cosa è caratterizzato un cammino in Cristo. una condotta cristiana. Cosa c'è alla base di un cammino in Cristo? Questa lettera ci mostra nei dettagli come camminare in Cristo, come comportarci. Qui vediamo cosa c'è alla base di un cammino in Cristo. Paolo evidenzia diverse cose. Diverse cose importanti. Che mostrano che colui che cammina in Cristo cresce. Primo aspetto. Primo aspetto. Colui che cammina in Cristo cresce spiritualmente e c'è un primo aspetto che è alla base di un cammino cristiano. Ed è questo. Radicati. Versetto 7. Radicati. Letteralmente dice Paolo qui il verbo è al passato ed è passivo ovvero è il Dio che opera è Dio che ci ha fermamente radicati ed è ciò che è accaduto quando Dio ci ha convertiti. La conversione porta ad essere fermamente radicati in Cristo. Il credente di fatto convertito è radicato fermamente in Cristo. Quindi prima di ogni cosa per avere un atteggiamento cristiano è fondamentale essere radicati fermamente in Lui, in Cristo. Dio che nella sua grazia opera e ci ha fermamente radicati potremmo anche tradurlo che il credente è stato impiantato in Cristo. Paolo usa una terminologia che riguarda l'agricoltura. Ci ha impiantati fermamente radicati e il credente non è colui che a un certo punto fa una scelta personale ma è colui che Dio ha salvato e ha impiantato in Cristo. Lui è fermamente piantato in Cristo. Non potrà esserci una condotta cristiana se non c'è questo primo aspetto. Se non siamo fermamente radicati in Cristo il credente quindi cammina in Cristo e questo cammino inizia con l'essere fermamente piantati, radicati in Cristo. Quindi esorta a camminare in Cristo dicendo essendo stati fermamente radicati in Lui e continua, secondo aspetto edificati in Lui. Ora, nel testo originale qui abbiamo un verbo che ha il passato radicati e il verbo edificati, questo participio è al presente. Ora perché mette a luce questo? Perché prima mette a luce ciò che Dio ha compiuto nel passato, ci ha radicati fermamente ora mette a luce ciò che accade costantemente ci edifica in Cristo. Perché ci sia un cammino cristiano dobbiamo essere costantemente, continuamente edificati. Qui c'è un'altra metafora della costruzione Dio ci costruisce ci ha piantati fermamente in Cristo e dopodiché ci costruisce costantemente, spiritualmente ci edifica ci edifica in Lui il cammino è possibile in Cristo mediante una continua edificazione in Cristo la vita del credente deve essere il risultato di una continua crescita edificazione che è possibile in Cristo mediante la saggezza che è in Cristo ovvero mediante la parola di Dio siamo qui questa sera per essere edificati in Cristo per essere costruiti metaforicamente in Cristo colui che è stato fermamente radicato quindi in Cristo è colui che viene costantemente continuamente edificato e questo mediante la parola di Dio voglio mostrarvi un brano in Efesini 4 diciamo questi versetti Efesini 4 11 Paolo scrive la Chiesa e ascoltate quello che dice davvero importante è Lui che ha dato alcuni come apostoli altri come profeti di questo allora altri come evangelisti altri come pastori e dottori questo è quello che accade oggi ma qual è lo scopo di questi doni di questi uomini che Dio ha dato alla Chiesa qual è lo scopo 12 per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo affinché ascoltate non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini per l'astuzia loro nelle arti sedutrici dell'errore Dio dà dei ruoli a degli uomini con uno scopo affinché ci sia la continua crescita della Chiesa l'edificazione attraverso l'insegnamento della parola di Dio questi ruoli possiamo essere perfezionati edificati per poi servire il Signore per un ministero uniti nella fede piena conoscenza del figlio di Dio la Chiesa è il corpo di Cristo e Dio edifica i credenti mediante questi ruoli importanti e poi giunge affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina ecco come proteggerci fratelli dai falsi insinamenti non solo da eresie ma anche dalla superficialità quando siamo continuamente edificati spiritualmente quando Dio ci fa crescere ci cambia attraverso la parola di Dio e Paolo esortando un cammino in Cristo evidenzia in che modo è possibile siamo stati radicati impiantati fermamente lui veniamo costantemente edificati edificati in Cristo questa continua crescita spirituale mediante l'opera di Dio quando siamo sottomessi a Cristo è lui che ci edifica è lui che ci edifica ma attraverso la parola di Cristo infatti dice edificati in lui edificati in Cristo in che modo attraverso la parola di Cristo purtroppo oggi si parla di crescere si parla di Spirito Santo si parla di Cristo ma non si parla della parola di Dio si sta distaccando il messaggio dallo Spirito Santo e da Cristo e quando fai ciò a quel punto qual è il messaggio dello Spirito Santo? se tu distacchi la parola di Dio dallo Spirito Santo e sarà un messaggio umano nostro qui parla di essere edificati in Cristo e attraverso la sua parola che avremo saggezza la saggezza che troviamo in Cristo affinché ci sia una continua edificazione ed è allora che ci sarà un atteggiamento conforme a Cristo un cammino in Cristo fermamente radicati dice edificati in Cristo continuamente poi aggiunge un terzo aspetto e rafforzati letteralmente rafforzati nella fede così come siete stati istruiti letteralmente dal greco e rafforzati nella fede così come siete stati istruiti anche qui questo verbo è passivo questo participio è Dio che ci rafforza ma come in che modo nella fede così come erano stati istruiti da Epafra qui dice di camminare in Cristo come grazie a questa opera di Dio che ci rafforza nella fede sapete il termine fede qui non si riferisce alla fede soggettiva la nostra fede si riferisce al messaggio della fede al messaggio della verità al contenuto della fede il messaggio del Vangelo di Cristo voglio mostrarvi in che modo la scrittura usa questo termine Giuda capitolo anzi Giuda 3 non c'è nessun capitolo Giuda 3 versetto 3 lettera di Giuda ascoltate quello che dice Giuda carissimi Giuda versetto 3 carissimi avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere estremamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre qui parla del messaggio di Cristo il Vangelo la parola di Cristo questo è il termine fede quindi non solo fede nostra personale ma il messaggio che è stato trasmesso ecco qui in Colossesi dice di camminare in Cristo come? rafforzati da Dio nella fede in che modo Dio ci rafforza ci rende stabili in che modo ci conferma letteralmente ci rende stabili attraverso la parola di Dio la fede il messaggio della verità infatti aggiunge così come siete stati istruiti l'istruzione è per trasmettere questa fede avere questo messaggio della parola di Cristo ed è in quel messaggio che noi siamo rafforzati ed è così che c'è un cammino in Cristo ed è così che ci sarà una condotta cristiana quando saremo edificati in Cristo quando saremo rafforzati resi stabili in Cristo dobbiamo riconoscerlo siamo deboli siamo mancanti come camminare in Cristo quante volte sento il mio riesco è troppo difficile fratelli è Dio che attraversa la sua parola che siamo sottomessi ci rafforza ci edifica questa è la sua opera quando noi siamo sottomessi a Lui alla sua parola Dio ci edifica ci costruisce ci rafforza ci rende stabili grazie al messaggio di Cristo la verità così come siete stati istruiti ecco l'importanza di istruire ecco l'importanza di insegnare di predicare la parola di Dio perché nella parola che c'è la saggezza per una condotta fedele conforme a Cristo non è in noi che troveremo la saggezza per una condotta fedele non è in noi che troveremo la forza per affrontare le ansietà le preoccupazioni o la carnalità non è in noi ma è nell'essere rafforzati da Dio mediante il messaggio della sua parola Paolo esorta quindi questo cammino in Cristo e dice come fermamente radicati in Cristo edificati continuamente in Cristo rafforzati resi stabili in Cristo mediante il messaggio di Cristo la sua parola fondamentale per essere rafforzati ma aggiunge un'ultima cosa un'ultima frase letteralmente dice abbondando nel ringraziamento colui che cammina in Cristo che ha una condotta conforme a Cristo non solo è fermamente radicato in Cristo non solo cresce continuamente edificato in Cristo non solo è rafforzato ma ringrazia continuamente Dio abbonda nel ringraziamento questa caratteristica caratterizza un cammino fedele in Cristo colui che ha una condotta fedele alla parola di Cristo che è edificato e cresce in Cristo sarà caratterizzato dal ringraziamento desidera ringraziare costantemente Dio e è grato mancanza di ringraziamento di gratitudine e sintomi e mancanza di un cammino in Cristo il ringraziamento caratterizza il cammino fedele dei credenti pensate Paola in prigione ingiustamente e in questa lettera voglio mostrarvi parla di ringraziamento costantemente che c'era un cammino in Cristo c'era una condotta fedele a Cristo al capitolo 1 versetto 3 come inizia noi ringraziamo Dio Paola in prigione ingiustamente ringrazia Dio per la fede che hanno i Colossesi è grato è riconoscente versetto 12 quando dice fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti e poi giunge ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce ringraziare Dio per la sua opera salvifica ci ha resi capaci qualificati per essere dei credenti ci ha liberati dal potere delle terebre e ci ha trasportati nel regno del suo motofiglio in lui in Cristo abbiamo la redenzione il perdono dei peccati perché lamentarci quando pensiamo all'amore di Cristo in lui siamo redenti il credente che cammina in Cristo continuamente ringrazia Dio non smette di ringraziare Dio altro che lamentarsi e litigare con Dio nella preghiera ringrazia Dio non solo al capitolo 2 versetto 7 abbiamo visto radicati edificati lui rafforzati dalla fede come vi state insegnate abbondate nel ringraziamento non solo capitolo 3 versetto 15 è la pace di Cristo al quale siete stati chiamati per essere un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti 16 la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con sapienza con ogni sapienza cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi inni e cantici spirituali cantare ringraziare Dio la sua grazia qualunque cosa facciate in parola in opere fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui non solo cantare ringraziando Dio per la sua grazia lodandolo ma ringraziando Dio per mezzo di Cristo capitolo 4 versetto 2 perseverate nella preghiera vegliando in essa con rendimento di grazie il credente costantemente ringrazia Dio è pieno di gratitudine Paolo è in prigione cosa lo motiva a ringraziare Dio perché sta camminando in Cristo perché è una condotta che conforma a Cristo è radicato in Lui è edificato in Lui è rafforzato mediante il messaggio di Cristo ed è abbondante nel ringraziamento e abbondano il ringraziamento questa sera solamente due versetti ben disse ma che cosa abbiamo visto questa sera l'essenzialità di camminare in Cristo l'essenzialità di camminare in Cristo non è un aspetto secondario non è un aspetto che riguarda alcuni credenti dopo vent'anni di fede è essenziale è cruciale infatti ha affermato che come avete ricevuto Cristo camminate in Lui è il credente che cammina in Cristo è il credente che desidera avere una condotta che conforme a ciò che Cristo ci ha insegnato la conoscenza salvifica di Cristo implica un cammino in Cristo fratelli non adagiamoci pensando che possiamo essere salvati e poi però non c'è la volontà di mettere a morte le opere della carne no fratelli quella conoscenza salvifica la nostra risurrezione con Cristo implica che siamo chiamati noi ora in Cristo a mettere a morte le opere della carne perché ci sia un atteggiamento cristiano il credente è tale e dimostra ciò attraverso la sua condotta il suo comportamento l'atteggiamento e Paolo in questa lettera dal capitolo 3 in poi parlerà in modo dettagliato se notate riguardo questo cammino in Cristo essenziale nella nostra vita la conoscenza salvifica di Cristo implica un cammino in Cristo e non solo un cammino in Cristo implica una crescita una crescita spirituale in che modo possiamo crescere e camminare e avere una condotta fedele e non grazie alla nostra saggezza perché siamo stati fermamente radicati in Cristo siamo costantemente edificati in Cristo mediante la sua parola siamo rafforzati da Dio in Cristo mediante la sua parola e come risultato saremo riconoscenti e grati a Dio costantemente sapete quanto quindi è fondamentale l'insegnamento della parola di Dio e quanto è fondamentale fratelli la chiesa locale perché è lì che capiamo se stiamo camminando in Cristo insieme ai fratelli attraverso l'istruzione al discepolato capiamo e comprendiamo se e come stiamo camminando in Cristo Paolo scrivendo agli Efesini parla alla chiesa locale qui sta scrivendo ai Colossesi Paolo è un servo delle chiese locali purtroppo c'è questo grande inganno a pensare alla chiesa universale e quindi vivere in modo indipendente io ho l'ospito santo e lui mi guiderà ma non ci sarà mai nessuno che potrà riprendere e istruire quella persona perché lui vive indipendente dalla chiesa locale vale inganno qui Paolo scrive a una chiesa locale ed esorta dopo pregato lottato per loro affinché ci sia saggezza in Cristo esorta a camminare in Cristo ovvero ad avere una condotta che è conforme alla parola di Cristo ed è Dio che fa questa opera è Dio che ci edifica è Dio che ci rafforza e Paolo in questa letta ci mostrerà qual è questa condotta qual è questa condotta che i credenti devono avere e tutto ciò fratelli e sorelle è fondamentale certo per glorificare Dio prima di ogni cosa perché quando cresciamo glorifichiamo Dio ma in questo contesto era fondamentale per contrastare il falso signore come proteggerci dall'eresia come proteggerci da insegnamenti superficiali come proteggerci dal legalismo dal misticismo c'è un solo modo attraverso la saggezza che troviamo in Cristo e attraverso una condotta che conforma a Cristo e che ci porterà a capire che ogni forma di legalismo o di qualsiasi altra filosofia non corrisponde a nulla di spirituale sapete possiamo addirittura fare cose in modo legalistico e pensare che siamo guidati dallo Spirito Santo ma la scrittura ci mostra che solo quando c'è questa saggezza in Cristo gli altri e quando c'è una condotta un cammino possiamo contrastare il vero discernimento riguardo i falsi stimoli infatti di cosa parlerà subito dopo versetto 8 guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo e poi giunge perché in Lui in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente Lui che è il capo di ogni principato e di ogni potenza e ci esorterà a camminare fedelmente e quanto è importante riconoscere le nostre debolezze ma desiderare sottometterci a quello che Paolo ci insegna in questi versetti noi che abbiamo ricevuto Cristo Gesù il Signore noi che professiamo di credere in Gesù il Signore noi siamo chiamati a camminare sottomessi al Signore mediante l'aiuto dello Spirito Santo e mediante la saggezza che troviamo nella parola di Dio noi potremmo fare ciò glorificando Dio e contrastando qualsiasi forma di segnamento errato che attacca la Chiesa e che ci impedisce davvero di giudire in Cristo fate lì che ci sia davvero la volontà Paolo scrive come dunque avete ricevuto Cristo il Signore così camminate in Dio l'essenzialità di camminare in Cristo è essenziale nella nostra vita che ci sia la nostra volontà attraverso questa lettera di mettere in pratica la parola di Dio e di comportarci in modo conforme a Cristo e di vivere la nostra vita da cristiani noi che abbiamo ricevuto Cristo Gesù il Signore che c'è che c'è l'essenzialità che c'è Grazie.